Nove pagine per spiegare le ragioni che hanno portato nell'udienza preliminare del 19 luglio scorso il giudice del Tribunale di Blanes, in Spagna, a rinviare a giudizio solo uno dei tre ceceni coinvolti nel brutale pestaggio mortale di Niccolò Ciatti. Il magistrato in quell'udienza ha deciso che a processo andrà solo Rasul Bisultanov perché così si legge nelle motivazioni della sentenza non esistono indizi di colpevolezza che permettano di attribuire la partecipazione alla rissa anche di Kabibul Kohabatov e Movzrav Magomadov che quindi non possono essere processati per omicidio. Anzi, per il Tribunale di Blanes, i due ceceni assolti non hanno mai aggredito né prima né dopo Ciatti e i suoi amici né tantomeno hanno contribuito a causarne la morte. Non solo i due, sempre secondo il giudice istruttore, avrebbero perfino evitato che Bisultanov potesse riavvicinarsi a Niccolò al suolo incosciente per colpirlo ancora. Il giudice è andata incontro alla tesi della Procura non tenendo conto delle richieste della parte civile rappresentata dai Ciatti. Il governo nostro, il governo italiano, faccia chiedere chiarimenti su questo comportamento che troviamo assolutamente inadeguato e credo che forse un giudice con un po' più di esperienza e magari che legga gli atti dall'A alla Z sarebbe forse molto più utile di quello che è stato fatto fino adesso. Questione che la famiglia ha portato sul tavolo del ministro della giustizia Alfonso Bonafede in un incontro romano. Al guardasigilli viene chiesta una presa di posizione netta e chiara del governo a due anni di distanza da quella maledetta notte in discoteca a Iore de Mar.